Abbiamo con questo sistema Rousseau cambiato il modo di fare politica e pensiamo anche con molti riscontri a livello internazionale, poi Enrico ci parlerà anche di alcuni eventi che sono stati organizzati in varie università in giro per il mondo e soprattutto europee, in cui abbiamo un grandissimo riscontro sul metodo che innova il modo di fare politica utilizzando la rete. L'obiettivo quindi è riuscire ad aprire il più possibile questa condivisione e l'obiettivo nostro anche dal punto di vista delle iscrizioni è riuscire ad arrivare a un milione di iscritti entro la fine del prossimo anno. Quindi questo è un grande obiettivo e sfidante per noi ma ci lavoreremo sicuramente e sarà uno dei nostri obiettivi oltre a quello della partecipazione che è uno dei fondamentali. Grazie. 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 Grazie.